Siamo qui per Umbria Left con Sonia Montegiove, Presidente di Libre Italia. Sonia Montegiove, l'open source entra pesantemente nella pubblica amministrazione con l'accordo con il Ministero della Difesa per ben 150.000 installazioni di Libre Office. Battaglia vinta o ancora in corso? La battaglia è in corso, però ci auguriamo di averla vinta perché comunque la Difesa ha fatto questo annuncio, ha siglato un accordo con Libre Italia il 15 settembre e abbiamo iniziato le attività di migrazione con la fase di analisi che loro dovrebbero ultimare entro dicembre e abbiamo iniziato già da un paio di settimane il corso di formazione e formatori Libre Office. Abbiamo 30 formatori, ne avremo altri 30 nel mese di novembre, quindi ci sembra che loro si stiano muovendo molto bene, per cui credo che la battaglia sia vinta. Come si inserisce nel contesto del ritorno ad Office 365 del Comune di Pesaro? Il caso Pesaro è uno dei rari casi di ritorno a Office, anche se viene descritto in maniera diversa. Pesaro ha semplicemente sbagliato il progetto di migrazione, quindi ha migrato male a Open Office. Avendo migrato male a Open Office è poi tornata sui suoi passi, peraltro con un annuncio in pomagna del sindaco che è diventato nel frattempo un sindaco 3.0, che scherzando io dico forse diventerà 4.0 con la nuova release di Office, ha semplicemente sbagliato, quindi non ha saputo gestire un progetto di migrazione ed è per questa ragione che poi è tornata ad Office 365. E alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea su Safe Harbor rispetto a 365 che è un cloud americano? La stessa sentenza ci dice che probabilmente Pesaro ha preso la decisione sbagliata, ma ha preso la decisione sbagliata anche rispetto a parametri di sicurezza, per esempio che Office 365 non garantisce la presa sbagliata perché ha sostenuto che il software libero costi più di quello proprietario ed è assolutamente falso e per dire questa cosa ha utilizzato dei dati e ha detto che i dipendenti del Comune di Pesaro spendevano circa 15 minuti del loro tempo nel trasferire da un formato all'altro i propri documenti. Adesso spenderanno 15 minuti del loro tempo nell'aspettare che Office 365 carichi il documento fin tanto che Pesaro non avrà e lo ha già messo in conto, non avrà ricomprato macchine e non avrà adeguatamente messo una banda che possa sostenere l'uso di Office 365 in pubblica amministrazione. E senza contare che la questione privacy su documenti di rilevanza, dati sensibili, ha anche rilevanza penale? Ovviamente sì. Grazie a Sonia Montegiove.